buongiorno a tutti e benvenuti alla bianco auto oggi vi voglio presentare un'altra vettura da sogno audia 3 sportback 2000 turbodiesel 150 cavalli cambio manuale nella versione design colore bianco metallizzato fari full led anteriori e posteriori pacchetto cromature barre cromate cruise control climatizzatore automatico bizona sedile riscaldati volante multifunzione sensori parcheggio anteriori e posteriori navigatore satellitare mm i plus e virtual cockpit bluetooth e media interface questa vettura a 26.500 km ed è stata immatricolata per la prima volta a dicembre del 2016 noi la proponiamo con 24 mesi di garanzia ad un prezzo strepitoso di 27.500 euro più spese di matricolazione e messe in strada badate bene che questa vettura nuova supera i 40 mila euro di risino queste vetture provengono direttamente dalla germania ex dipendenti audi noi le consegniamo già con il primo tagliando fatto libretto di istruzioni in italiano quindi voi venite a ritirare la macchina andate a fare il bollo e qui la storia finisce se vi interessa un finanziamento ad un tasso agevolato del 2 95 ce l'abbiamo qui da noi alla bianco auto dove i vostri sogni possono diventare realtà ci trovate al 0 1 4 1 96 92 14 sito internet bianco auto appunto it e siamo a motta di consiglio ledasti io vi aspetto tutti e alla grande ciao a tutti amici